Sono produttore e developer per S&K e mi occupo della piattaforma di Sperparts e appunto oggi cercherò di mostrarvela il più possibile e cercare anche di rispondere a quelle che sono le vostre domande a riguardo. La mia presentazione sarà totalmente live quindi non ho slide da farvi vedere ma vi faccio vedere direttamente il prodotto e tutte le sue funzionalità. Cercherò di essere il più chiaro possibile e cercherò anche di rispettare quelli che sono i nostri tempi. Allora iniziamo direttamente con la piattaforma. La piattaforma di Sperparts nasce dall'idea di riuscire a darvi la possibilità di gestire in maniera più accurata una fase delicata del post vendita che è appunto quella fase riguardante le parti di ricambio nei nostri impianti, nelle nostre macchine che andiamo a produrre. Quindi una volta che viene inserita nel mercato la macchina è importante cercare di riuscire a gestire le parti di ricambio in maniera efficiente e questo molte volte risulta essere un problema. Quindi la nostra soluzione è una piattaforma online quindi che si trova andando con un browser qualsiasi all'interno di un indirizzo e funziona con un sistema di login di gestione degli utenti similare a quello che avete conosciuto con i prodotti Autodesk. Quindi avrete una licenza legata a un vostro utente a cui assegnerete una password quindi tutte le volte che verrà creato un utente nuovo riceverete una mail a quell'indirizzo di posta dove potrete inserire la vostra password e una volta inserita la vostra password avete la possibilità di fare il login e di entrare all'interno di quella che è la piattaforma. La piattaforma si presenta con un layout molto semplice e abbiamo la possibilità di come potete vedere ricercare le informazioni che andiamo a inserire per quattro macro categorie, quattro macro gruppi che sono banalmente i vostri clienti a cui voi andate a vendere delle macchine, un nome di macchina quindi il nome reale con cui viene caricata la macchina, il seriale con cui andate a venderla al vostro cliente e evidentemente anche un numero di ordine con cui avete venduto la macchina al vostro cliente. Quindi una volta deciso di inserire le informazioni all'interno della piattaforma queste saranno divise in queste quattro macro categorie che vi danno la possibilità di andarle a ricercare in maniera veloce, in maniera rapida per singolo cliente, per esempio andare a vedere quelle che sono le macchine del nostro singolo cliente oppure tutti i nostri sales order che abbiamo all'interno della piattaforma. Quindi questa qui è l'home page della piattaforma e una volta che si va a selezionare la nostra macchina, il nostro impianto si apre una situazione di questo tipo, una pagina di questo tipo dove abbiamo al centro il modello 3D della nostra macchina che ho la possibilità di esplorarlo, di girarlo, di ruotarlo, di esploderlo e fare tutte le cose che si vogliono all'interno di questo modello, sulla parte sinistra della nostra pagina abbiamo il modello, l'albero di modello, quindi sostanzialmente tutta la distinta componenti che voi avete a familiarità e avete già visto in Inventor o in Volt, sulla destra invece un pannello con le informazioni relative a tutti i componenti della macchina, vedete che se io clicco su un componente vengono cambiate anche le informazioni, la possibilità di nascondere chiaramente questi pannelli per avere una visione maggiore della macchina in 3D e poi la possibilità di navigare proprio all'interno del modello, ecco la soluzione è molto comoda anche per andare ad esplorare il modello nella sua interezza, come vedete a me basta scrivere una parola per andare a ricercare questa parte all'interno del mio modello, vedete che adesso ci ho aggiunto anche la parte di table oppure posso andare benissimo a ricercare solo magari la parte più esterna di nastri. per la mia macchina, vedete che a seconda delle cose che io vado a digitare all'interno di questa finestrella di ricerca ho la possibilità di esplorare al meglio la mia macchina, fino ad arrivare addirittura che se ho in mano il codice di un componente particolare che voglio andare a ordinare, posso andare a digitare direttamente il codice e andare a ricercare questo componente all'interno della macchina in maniera precisa e specifica, quindi andrò ad avere la possibilità di ricercare questo componente, isolare il pezzo, andare a visualizzarlo nei suoi dettagli, ripercorrere la sua storia all'interno del mio modello per capire esattamente dove è inserito e poi andare anche chiaramente a fare l'operazione più importante e cioè aggiungere la selezione al carrello e verrà visualizzata all'interno del carrello, vedete che me l'ha evidenziato di rosso perché è inserito all'interno del carrello e avrò il mio cliccando appunto come avete visto cliccando su questa iconcina del carrello qua in basso avrò la possibilità di aprire questa pagina con tutte le informazioni di riepilogo del mio ordine con il pezzo, con il suo seriale, in che macchina è contenuto e la sua descrizione. Tutte queste informazioni che vedete vengono poi inviate tramite questo pulsante, vengono inviate via mail a una mail che voi decidete e a questo punto vi ritroverete quelle che sono le informazioni di riepilogo all'interno di un pdf modificabile, personalizzabile e il vostro ufficio che si occupa della gestione delle parti di ricambio riceverà appunto una mail con all'interno una richiesta di preventivo per queste parti di ricambio. Quindi la nostra idea è quella di creare una filiera molto più veloce, molto più rapida nella ricerca delle parti di ricambio nella richiesta di offerta per parti di ricambio. Tutte le informazioni che vediamo all'interno di questa piattaforma sono informazioni che decidete voi come andare a popolare e decidete voi da dove andare a popolarle. Nella nostra esperienza l'integrazione, una delle integrazioni che abbiamo sviluppato, l'integrazione migliore per ora con cui lavorare è appunto utilizzare Autodesk Vault. Autodesk Vault, abbiamo già visto la presentazione di Alessandro, è stata più che esaustiva vi consente di gestire i dati dei vostri prodotti e quindi perché no andare anche a utilizzare Vault per popolare la piattaforma fisica che avete appena visto attraverso un'estensione che abbiamo creato che vi consente di fare che cosa? Andare a prendere il vostro assieme, il vostro dvf in realtà del vostro assieme andare a caricarlo online insieme a tutte quelle che sono le informazioni di distinta componenti quindi avete tutti i dati di distinta componenti che andate a creare in Vault quindi andate magari ad aggiungere righe, nascondere righe, inserite informazioni, inserite proprietà tutte queste cose possono essere inviate alla piattaforma e questo è molto semplice attraverso il nostro sistema basta andare su strumenti e settare delle proprietà al nostro importer dove decidiamo quali che sono le proprietà che vogliamo far vedere all'interno della piattaforma quindi come vedete in questo caso io all'interno della piattaforma vado a popolarlo con la proprietà di titolo di ricambio, di ricambio consigliato per esempio ma posso scegliere una qualsiasi delle proprietà che ho legate ai miei articoli in Vault per esempio il numero, l'unità di misura tutto questo può essere inserito all'interno e tolto all'interno di questo form una volta salvate le impostazioni, le impostazioni restano salvate all'interno del vostro Vault e vi dà la possibilità di, restano salvate all'interno del vostro Vault e vi dà la possibilità tramite tasto destro sul vostro articolo di inviarle appunto alla piattaforma online questo viene fatto tramite sempre un formettino come vedete in questo caso dove avete le proprietà che abbiamo già salvato quindi sono già diciamo preconfigurate avete la possibilità di decidere se inviare solo la distinta componente, il dvf o tutte e due e inoltre abbiamo anche la possibilità di mappare direttamente quelle che sono la matricola e la commessa questo in che senso? voi all'interno di Vault magari avete delle macchine codificate in un determinato modo una volta vendute al vostro cliente gli viene assegnato un numero di matricola e viene collegato a un ordine di vendita avete la possibilità di inserire queste due informazioni in fase di esportazione in questo modo ce li avete all'interno della piattaforma in maniera univoca e avete già diciamo tutte le informazioni che vi servono per utilizzare la piattaforma al meglio inoltre se queste informazioni sono già presenti all'interno della mia anagrafica articoli di Vault come vedete qui io ho una proprietà con scritto matricola e una proprietà con scritto sales order in cui ho indicato i due valori posso andare benissimo a mappare queste due proprietà all'interno del mio form di importazione che funziona anche in maniera massiva quindi io ho la possibilità di importare in maniera massiva tutto il mio storico per esempio di componenti all'interno della piattaforma online e come vedete è andato a prendere in automatico i due valori e li va a inserire in questo contesto cliccando su invia viene preso il nostro assieme e viene caricato sulla piattaforma per motivi di tempo l'ho già fatto quindi l'ho già caricato all'interno della mia piattaforma online e l'ho anche associato a un mio cliente allora adesso volevo andare più nel dettaglio sulla parte di gestione del menu della nostra piattaforma quindi il funzionamento è abbastanza chiaro io prendo degli assiemi dal mio vault prendo delle distinte componenti dal mio vault le espongo online e do la possibilità ai miei clienti e anche magari alle parti interne alla mia azienda di andare a visionare determinate informazioni e andarmi a fare un ordine di ricambio di ricambistica direttamente online da un ipad, da un telefono, da qualsiasi cosa in maniera molto più rapida e molto più veloce ho la possibilità di personalizzarla questa piattaforma per esempio aggiungendo un logo personalizzato della vostra azienda in maniera tale che vi venga visualizzato ai vostri clienti non il logo NKE ma il vostro logo per personalizzarla il più possibile ho una sezione di settings e una sezione di utenti partirei con la sezione di utenti dove io ne avevo già creato uno per appunto comodità ho la possibilità di gestire un'anagrafica utenti che poi andranno a utilizzare la mia piattaforma la gestione di questa anagrafica può essere fatta manualmente inserendo a mano un nuovo utente dandogli un email, un nome di company un customer ID presumibilmente ogni vostro utente ha un suo customer ID all'interno del vostro IRP o all'interno del vostro CRM andandogli a assegnare una tipologia di utente noi abbiamo previsto per ora due tipologie che sono customer and retailer il customer è un utente che ha solo la possibilità di vedere determinate macchine diciamo come in questo caso il mio utente ha la possibilità di vedere solo determinate macchine come vedete può vedere solo questa macchina e questa macchina perché io ho deciso così ho la possibilità di deselezionare in qualsiasi momento una macchina per il mio utente e in questo modo lui quando andrà nella sua sezione l'utente della compagnia Alfa SRL vedrà una sola macchina se invece dalla sezione utenti io vado a dirgli no guarda voglio che veda anche questa macchina ovviamente lui in automatico ne vedrà due questo è vero anche quando mi collego come questo utente quindi io adesso uscirò dalla piattaforma mi ricollegherò con le credenziali dell'utente che abbiamo appena visto e in automatico lui si ritroverà in una pagina del tutto similare ma con delle impostazioni ridotte ovviamente ha la possibilità di vedere solo i due sales order o le due macchine che abbiamo visto in precedenza quindi che io gli ho dato la possibilità di visualizzare non tutte le macchine della piattaforma ma solo alcune questa è la principale differenza con il retailer il retailer invece ha la possibilità di vedere tutte le macchine indistintamente perché magari il nostro rivenditore giustamente ha tutto il nostro catalogo macchine quindi torno all'interno della piattaforma come diciamo utente amministratore e ho la possibilità appunto di gestire l'anagrafico utenti dicevo sia a livello manuale che uploadandolo tramite un file csv precedentemente compilato quindi io posso fare un drag and drop di questo file csv e in automatico mi va a compilare la mia anagrafica c'è la possibilità cliccando qui di scaricare direttamente il nostro file e poi compilando queste informazioni e ricaricandolo all'interno della piattaforma ho la possibilità di andare a popolarla in maniera massiva così da non dover fare l'operazione in maniera manuale ma in maniera massiva magari anche banalmente da un vostro IRP da un vostro sistema CRM abbiamo la possibilità di importare l'anagrafica in maniera massiva allo stesso modo andiamo a vedere quella che è la parte di settings perché abbiamo la possibilità di mappare numerose informazioni all'interno della nostra piattaforma a partire appunto dalle proprietà che posso decidere di importare da volt ma posso anche decidere per esempio in che modo mandare l'ordine l'ordine come abbiamo visto noi l'abbiamo inviato tramite pdf e l'abbiamo inviato a questa email perché abbiamo indicato questa email potremmo benissimo cambiare l'email e fare arrivare l'ordine a un altro destinatario oppure addirittura abbiamo la possibilità di inviare l'ordine tramite delle API JSON e quindi inserire l'ordine direttamente all'interno del vostro IRP all'interno del vostro sistema di gestione degli ordini o delle richieste appunto di offerta in questo modo abbiamo un collegamento istantaneo tra la richiesta del vostro cliente e quella che è il vostro modo di gestire gli ordini e le richieste di offerta eccetera un'altra parte importante è la possibilità di decidere quali proprietà ci sono determinate proprietà all'interno della nostra piattaforma che consentono di fare delle specifiche cose per esempio abbiamo la proprietà inseparabile che vi consente di decidere quali gruppi sono inseparabili o meno quindi non verranno esplosi questi gruppi e non verrà neanche data la possibilità di selezionare un componente all'interno di questo gruppo possiamo scegliere magari il tipo di entità prendendolo dalla distinta di inventor e quindi dire che un assieme saldato per esempio non è esplodibile e non è selezionabile una parte all'interno di questo assieme saldato oppure abbiamo la possibilità anche di andare a selezionare quelle che sono le proprietà raccomandate come spare parts quindi magari voi avete una lista di proprietà una lista scusate di componenti all'interno della vostra macchina che è un ricambio consigliato a tre anni a due anni è un ricambio di manutenzione in sicurezza quindi avete bisogno di inserirli come ricambi consigliati per il cliente abbiamo la possibilità di indicare con una proprietà magari di Volt il ricambio consigliato dirgli che è vero che è un ricambio consigliato e a questo punto all'interno della piattaforma avrò la possibilità di andarli a selezionare e inserire direttamente all'interno del carrello allo stesso modo posso decidere di avere come spare parts solo determinate parti di ricambio non tutte le parti di ricambio all'interno della mia macchina mi spiego meglio ho deciso per praticità all'interno del Volt di inserire in alcuni componenti di questa macchina la proprietà ricambio e valorizzarla come true questo cosa vuol dire? che una volta esportato il mio componente all'interno della piattaforma avrò la possibilità di impostare questa cosa e dire ok non tutte le mie parti che vedo all'interno della macchina sono dei ricambi ma solo alcune andrò a dirgli che quindi solo i componenti che hanno questa proprietà valorizzata true sono delle parti di ricambio reali e quando vado ad aprire la mia macchina come abbiamo visto prima ci sarà una differenza cioè si aggiungerà qua in basso vedete un bottone questo bottone mi consente di evidenziare in maniera veloce tutte quelle che io ho deciso essere le parti di ricambio all'interno della mia macchina quindi mi basta pigiare questo bottone per avere una visione chiara e veloce di tutte quelle che sono le parti di ricambio che io anteriormente ho deciso essere delle parti di ricambio appunto con chiaramente la possibilità di andarla a inserire nel carrello come abbiamo già visto prima e a questo punto visualizzando il carrello abbiamo la possibilità di fare l'ordine con la nostra miniatura del pezzo e con tutte le informazioni aggiuntive appunto a corredo le informazioni aggiuntive come abbiamo detto possono essere prese dal vault quindi possiamo aggiungere tutte le nostre informazioni come il materiale tutte le cose che possono servire al nostro cliente e la possibilità appunto di modificare e di rendere questa piattaforma personalizzata sulle quali sono le vostre esigenze un'altra parte importante è la possibilità di averlo in diverse lingue in questo momento lo state vedendo in italiano perché il mio browser è impostato il mio browser chrome è impostato in italiano scusatemi in inglese perché il mio browser è impostato in inglese mi basterà andare a cambiare le impostazioni di lingua all'interno del browser affinché il nostro sistema venga visto e visualizzato in italiano quindi abbiamo la possibilità di vedere le due vedete le due lingue se avete un cliente estero avrà un browser sicuramente non impostato con la lingua italiana e quindi lo vedrà completamente in inglese mentre se avete il browser appunto impostato con la lingua italiana avete la possibilità di vedere tutta la nostra piattaforma in lingua italiana quindi con tutte le traduzioni fatte e diciamo appunto gestiamo il multilingue in questo senso la piattaforma è in continuo sviluppo ci stiamo lavorando costantemente seguiamo anche quelli che sono gli input che ci date voi i clienti quindi se avete qualsiasi domanda se avete qualsiasi dubbio riguardante noi siamo a vostra disposizione vi lascio appunto quello che è il mio il mio recapito e se avete appunto qualsiasi domanda potete benissimo farmela in questa sede e invece se avete bisogno di pensarci sopra avete dubbi che vi verranno in mente nei prossimi giorni potete benissimo contattarmi a questo a questo indirizzo email e cercherò di rispondere a quelle che sono tutte le vostre domande adesso se ne avete comunque sono a disposizione quindi sono in attesa allora stiamo guardando domande per il momento non ce ne sono però aspettiamo come avete visto stiamo facendo un percorso quindi dalla progettazione all'organizzazione alla verticalizzazione adesso questa attività che abbiamo fatto insieme ad Alessandro Facchini Federico ci porta a organizzare anche tutte le informazioni che abbiamo gestito con Volt quindi tra l'altro questa piattaforma è in continua evoluzione la stiamo sviluppando in base alle esigenze dei clienti quindi oggi la vedete così se faremo e come spero faremo altre attività di questo tipo la vedrete piano piano crescere e la vogliamo far crescere insieme ai clienti certo è una piattaforma appunto in fase di sviluppo che adesso nasce con l'idea di gestire le parti di ricambio ma perché no può essere anche utilizzata per andare a lavorare con i nostri fornitori con i nostri collaboratori alla fine il concetto è semplice andare a prendere un'informazione di progetto che voi avete all'interno del vostro CAD di disegno 3D quindi che è Inventor e andare a mettere le informazioni poi all'interno del vostro PDM tutto questo giro di dati viene esposto anche online quindi viene esposto anche in maniera univoca eseguendo una filiera ben precisa noi abbiamo progettato abbiamo già tutte le informazioni di progetto perché non andare a condividere queste informazioni per rendere anche più semplice magari una parte di gestione aziendale che fino a ieri era molto difficile da fare e molto dispendiosa in questo modo avete una piattaforma online che vi consente di gestire questo processo di parti di ricambio in maniera molto più veloce ed efficiente allora siccome non nessuno